L'Abruzzo da domenica prossima potrebbe tornare zona gialla. La decisione però come sempre spetterà alla cabina di regia di venerdì prossimo quando, dati alla mano, verranno decise le nuove classificazioni per le regioni italiane. I dati abruzzesi però potrebbero determinare un alleggerimento delle misure restrittive in vigore da due settimane. Il principale indicatore per far sì che l'Abruzzo torni giallo è l'indice RT, che lo ricordiamo deve essere al di sotto di 1, dunque particolare attenzione ai numeri. E nel bollettino aggiornato i nuovi positivi sono 344, emersi dall'analisi di 4.504 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 1.848 tamponi rapidi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari al 5,4%. Grazie alle 308 guarigioni scende il numero degli attualmente positivi di 29 unità, ora a quota 10.076. Netto calo anche per i ricoveri in area medica, meno 13, per un totale di 402. Lieve invece il calo delle terapie intensive, meno 2, che portano i posti letto occupati nelle asla abruzzesi a 40. In isolamento domiciliare poi ci sono altre 9.634 persone. Purtroppo si registrano ancora a decessi, sono 6 quegli odierni, 5 delle ultime ore ed uno comunicato solo oggi dalle ASL. Il bilancio regionale dei morti con Covid da inizio emergenza è pari a 1.441, mentre complessivamente i contagiati da marzo ad oggi sono stati 41.450.